Sfida storica per il Ciliveri che ospita nel proprio impianto il Modena, seconda in classifica con i gialloblu che arrivano alla partita in una condizione di classifica ancora molto deficitaria nonostante le tre vittorie nelle ultime quattro partite con il tecnico Carobbio che fotografa la gara in uno scappati di casa contro una squadra di serie C Ma questo deve essere lo spirito che ci deve contraddistingue da quella fine non lo ripeto ogni volta, però è così se quando abbiamo affrontato altre squadre in queste partite eravamo più scarsi adesso veramente non c'è neanche da dirlo, è normale che sia così però come ripeto sempre quello che conta poi è il campo e domani la risposta è andare al campo noi sicuramente metteremo tutto noi stessi e tutto quello che abbiamo in corpo rabbia, determinazione, volontà, atteggiamento giusto per metterli in difficoltà perché se pensiamo di fare una partita attendista e aspettarli probabilmente prima o poi il gol ce lo fanno quindi ce la giocheremo a viso aperto e con grande intensità, grande interminazione questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere domani per poter impensierire il Modena Fondamentale sarà l'approccio per il Ciliberg che non può permettersi di lasciare punti per strada nonostante l'atteggiamento rasserenato dell'ambiente intorno alla squadra che ha fatto molto arrabbiare l'allenatore ed il suo staff l'ho detto ai ragazzi prima che non da parte loro ma un po' dall'ambiente quasi un po' rilassati, quasi un po' accontentati di queste tre vittorie in quattro partite non mi è piaciuto assolutamente quello che ho sentito qualche voce che mi è arrivata dobbiamo stare sul pezzo sempre, da qui alla fine non abbiamo fatto niente siamo ancora nella merda e per riuscirne ci vuole ancora tanta fatica e tanta strada da fare perché abbiamo 22 punti, siamo quinto ultimo in classifica non siamo nemmeno nella posizione migliore di play out e quindi vuol dire che di strada ne abbiamo veramente ancora tanta da fare e se qualcuno si rilassa è sbagliato di grosso bisogna isolarsi e non pensare a niente pensare solamente al lavoro sul campo e alla partita della domenica basta il resto dobbiamo tapparci le orecchie e andare avanti per la nostra strada perché ripeto sarebbe veramente da suicidio pensare che abbiamo fatto qualcosa di importante sì abbiamo fatto qualcosa di buono ma la cosa di importante lo faremo il 2 maggio se siamo salvi punto e basta, il resto conta veramente zero le chiacchiere stanno a zero e quello che conta è solamente quello che facciamo in campo la domenica ma io ho detto ai ragazzi che da parte loro questo atteggiamento non l'ho visto è tutto un po' quello che ci sta intorno che sembra che adesso siamo così siamo diventati bravi, siamo belli, siamo contenti no, contenti niente contenti niente perché perché ripeto non abbiamo fatto veramente niente e la strada per arrivare al nostro obiettivo finale è ancora molto 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 lunga e se qualcuno non l'ha capito lo deve capire in fretta perché abbiamo bisogno di tutti sia dei ragazzi ma anche di tutto l'ambiente che ci sta intorno quindi questo deve essere chiaro da adesso ed ora in avanti deve essere così sempre non perché facciamo una partita bella allora i sorrisini, i sorrisetti sì, essere contenti, festeggiare la vittoria, le partite ma dal lunedì si pensa subito alla partita successiva e senza troppi entusiasmi facili perché non abbiamo bisogno di questo abbiamo bisogno di tanta considerazione e tanta determinazione punto e stop il clima al comunale di Mazzano si pronuncia infuocato visto l'esodo di tifosi da Modena per sostenere i canarini ma sì ma questo è bello questo è bello quando abbiamo giocato l'andata si respirava un'aria completamente diversa da Serie D e sarà così anche domani nonostante le nostre tribune non siano come quelle le baraglie logicamente però si respirerà un clima diverso domani sarà una partita particolare da questo punto di vista perché in questo campionato ce ne sono poche così ma questo ci deve solo essere da stimolo sono sicuro che è così perché se non fosse così allora dobbiamo cambiare il mestiere quindi da questo punto di vista sono fiducioso che il clima domani ci darà sicuramente qualcosa in più o qualcosa in meno come del resto anche a loro che hanno un grande seguito ai tifosi che li sostengono, che li spingono e so quanto è importante l'apporto della gente fuori l'affetto della gente fuori loro ne hanno tanto e domani dobbiamo pensare che questo sia anche per noi una cosa positiva ma sono sicuro che lo è perché ripeto se per un giocatore che domani scende in campo e questa cosa qua non è una spinta importante è meglio che stia a casa è meglio che stia a casa